ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro primo appuntamento live della settimana quello del martedì come al secondo quindi come il venerdì anche oggi ci soffermiamo sul guardare quello che accade nel mondo cripto nel mercato cripto sui grafici come si muove bitcoin come si muovono le altcoins aggiorniamo le nostre posizioni eccetera 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 ultimamente sono soprattutto le altcoins a far parlare di sé qualcuna di più qualcuna di meno sto tastando veramente un sacco di fomo e la cosa mi spaventa tantissimo vi dico la verità perché insomma non si risolvono mai bene queste situazioni di particolare euforia quindi magari oggi ci soffermiamo anche un po' su questo poi ho una notizia interessante da darvi che molti di voi stavano aspettando e ci siamo quasi non ve lo anticipo ancora perché voglio aspettare di vedervi in tanti connessi e poi vi droppo così la bomba e poi basta ovviamente cominciamo come sempre corrispondere alle vostre domande e quindi mi raccomando vi voglio sul pezzo presenti sia che siate in ferie in spiaggia di ritorno dal lavoro come me disgraziati che non siete altri sia che siate in trentino sull'himalaya sul k2 su una barca su una zattera vi voglio sul pezzo a seguire la live per raccattare le nostre famigerate shitcoin e soprattutto per interagire vi voglio vedere fare domande vi voglio vedere partecipi perché così si guadagnano il doppio di shitcoin e inoltre potete chiedere tutto quello che vi va insomma io vi risponderò in diretta andiamo ad analizzare le coin che vi interessano vi vi tolgo qualche curiosità insomma chi lo sa possiamo fare tutte queste cose sta solo a voi decidere che direzione prenderà questo live esattamente come al solito qua dietro c'è il fantastico grafico di bitcoin che spaventa parecchio perché oggi ha fatto un piccolo sell off non c'è ancora da spaventarsi vi anticipo già perché ovviamente ci troviamo all'interno di un range di una lateralizzazione e prima bisogna perdere quella prima di parlare di cambiamento di struttura e però che dire insomma non ce l'aspettavamo perché vedavamo una situazione molto bullish tutti in preda alla fomo e quant'altro e quindi oggi ho visto un po di scosse di di menti turbate di di persone un po turbate per l'appunto quindi andiamo a razionalizzare quello che sta accadendo andiamo identificare i supporti le resistenze andiamo inquadrare meglio la price action e andiamo un po a capire come ci si potrebbe comportare e quali posizioni si potrebbe prendere su uno scenario di questo tipo anche ovviamente le nostre care altcoins che sono molto suscettibili a questi movimenti allora iniziamo subito cosa dite con qualche domanda vostra se avete qualcosa da dire se avete qualcosa da chiedere mi raccomando fatelo adesso o mai più so che sono giorni un po sfigati perché siamo sotto ferragosto e direte chi è che si fila le tue dirette chi è che ti sta a guardare in effetti siete un po meno del solito però io non mollo io sarò qui con voi allora oggi dumping diretta è la domanda che vi ho fatto in apertura chi lo sa speriamo di no a dir la verità eccolo ciao luca ma ciao a te imperturbabile immancabile che ci sei sempre anche quando fuori ci sono 40 gradi ciao luca ciao luca buonasera a tutti sempre presente grande filo sul pezzissimo ciao luca valerio cripto anche tu sei uno di quelli sempre sul pezzo in questo periodo non riesco a stare sul pezzo ma sempre presente ma ci sta ogni tanto bisogna anche respirare e staccarsi un po dal mondo cripto ciao luca anche dalla spiaggia eccolo il primo dalla spiaggia ultimamente tutti mi scrivete io ti seguo da dal trentino io ti seguo dalla da formentera da qui da lì ma beati voi beati voi quasi primo da app grande l'applicazione sembra funzionare a tal proposito se avete cioè sentite delle anomalie di audio e cose simili o video ecco io sapete che ultimamente sto litigando un po con gli input output del pc quindi ditemelo mi raccomando su resume hai fatto un video cos'è resume non reserve volevi dire cioè in tal caso dumping diretta attenzione attenzione che succede che succede no in tal caso se parli di reserve qualcosa cioè l'ho accennato appena appena però un video dedicato ancora no magari potrebbe essere un'idea per il futuro trentino presente direttamente dalla bitcoin valley fantastico come va a proposito la bitcoin valley è sempre attiva sotto quel punto di vista lì o si è lasciato un po andare dopo il 2017 sono proprio curioso di di saperlo un giorno verrò anche a farci un giro mi piacerebbe tantissimo ciao luca sono drogato di live hai creato un mostro guarda giuseppe tu sei sempre presente anche tu sei sempre sul pezzo e mi fa un sacco piacere guarda che sia diventato un appuntamento piacevole per molti quindi sei sempre benvenuto come al solito insomma ciao grandissimo ma ciao anche a te luca interessante l'ultimo video però mi è sembrato un po troppo marchetta di conio niente contro conio è stato il mio battesimo però rispetto agli altri due guarda in realtà ti dico la verità la chiacchierata è stata molto non lo so è stato un tutt'uno ovviamente no queste tre parti questo non voleva neanche essere l'ultimo era il secondo in ordine di di cioè di temporale di in cui è stata fatta e in realtà poi sono argomenti che sono nati abbastanza in maniera organica era partito dal discorso dalla notizia quello sul fatto che le banche potessero iniziare a custodire bitcoin eccetera eccetera che era una notizia fresca del giorno al tempo e poi da lì ho lasciato parlare christian ovviamente siamo arrivati dove siamo arrivati ci sta ovviamente la marchettata ci voleva però al di là di tutto effettivamente è abbastanza pertinente secondo me con l'argomento che insomma nel quale conio poi si pone in maniera abbastanza a gamba tesa in quanto si fa portavoce del di questa cosa in italia insomma poi sono d'accordo anch'io l'ho messo per ultimo proprio perché rispetto ai primi due era quello che era piaciuto un po meno anche a me quindi l'ho tenuto per ultimo però ovviamente ve l'ho voluto condividere perché mi sembrava che anche lì si toccassero tematiche interessanti e beh niente ti ringrazio comunque della tua opinione è sempre un grosso piacere riceverle i feedback ciao luke 3k no bitcoin 3k assolutamente no eh a quando altri invitati dov'è la maglietta rossa e altri invitati guarda ci stavo pensando adesso se avete delle idee tra l'altro su chi potrei invitare a fare una chiacchierata ditemelo che mi fa piacere sentire anche delle vostre proposte dov'è la maglietta rossa niente maglietta rossa perché io sono anti dump anzi ho qui i miei occhiali verdi gli occhiali da pump che adesso li metto su così tac eccoci adesso deve ripartire guai a te se fai un lower low boh basta ho sparato il mio pump laser e ora me li posso togliere cosa ne pensi di mana e the central and guarda mi inter mi ricordo che ci avevo guardato al tempo quando erano appena usciti mi sembravano dei concept interessanti un po' come anche the sandbox no tutte quelle quegli asset virtuali quei real estate virtuali quei il possesso di digital asset a tutti gli effetti è un tema molto interessante che potrebbe diventare anche un trend non si è mai spinto oltre al punto a punto da diventare un trend come è accaduto per la defa in questo periodo però non escludo che in futuro potrebbe accadere e chissà perché no grazie proprio a the sandbox che sta insomma crescendo veramente parecchio anche grazie all'incubazione da parte di binance che mi ha fatto ma stupito vi dico la verità non me lo aspettavo affatto perché io ho sempre creduto nella bontà del progetto perché ciò ne ho anche parlato insieme a voi ve l'ho portato in video mi mi è piaciuto da subito ho acquistato una land penso che sia un progetto che ha un grosso perché però caspita vederlo su binance vi dico la verità non me lo aspettavo affatto quindi mi ha stupito e lo seguirò molto molto da vicino sono certo ma ne the central and sono cioè secondo me sono nello stesso settore in un certo qual modo proprio perché insomma gli asset digitali la tokenizzazione di una terra virtuale dove poi si possono fare cose insomma in un mondo che va sempre di più verso l'online è veramente veramente interessante seguire una cosa del genere quindi oggi niente occhiale e invece sì tac l'ho appena messo link entry per long speculativo poi ce lo guardiamo link i fondi su conio sono pignorabili allora in realtà quanto ho capito io quanto mi hanno spiegato no perché non sono effettivamente di proprietà di conio cioè è una sorta di cassetta di sicurezza immaginatevi che però non è proprio non è di proprietà loro cioè loro non è che possono decidere di venderteli di farteli sparire senza il tuo consenso e quindi non ci possono fare niente a meno che non ci sia tu ad autorizzare a farlo e ovviamente il pignoramento fa parte di questa di queste operazioni non fattibili in autonomia sesta live il numero romano addirittura spingere sempre presente grandissimo grandissimo così si fa questo è lo spirito giusto allora un attimo che metto il telefono in modalità aereo perché ho appena visto arrivare una notifica e se no ecco c'è il rischio che diventino parecchio moleste allora arriverà mai ether 2.0 secondo te certo che arriverà bisogna avere solo un pochino di pazienza sappiamo che ether ci ha abituato ad avere pazienza ma diamogli questo tempo perché insomma se lo meritano dai bisogna dargli il tempo che che chiedono perché insomma è vero si dice è stato ritardato una volta due volte tre volte cento volte ma c'è stato un motivo cioè comunque è una piattaforma delicatissima non si può improvvisare non si può correre comunque la fase zero sta arrivando e secondo me arriverà anche prima del previsto qualcuno dice 2021 ma secondo me potremmo già vederla nel 2020 e questo è un grosso traguardo già perché comunque ne pone le basi poi ovviamente da lì al deploy di tutta la rete attenzione ci passa un oceano è perché almeno un paio danni ci sono dal dalla fase zero che è semplicemente la beacon chain lo staking le prime basi fino alla possibilità di trasferire i token di far girare smart contract di migrare gli smart contract c'è veramente un abisso dentro e quindi potrebbe cioè adesso non so dare una stima ovviamente delle fasi seguenti ma la fase iniziale arriverà prima del previsto e quello sicuramente catalizzerà il tutto ciao chance al coin da guardare tezos drap doc anchor man va bene poi le guardiamo io ti seguo dalla cucina grande stai cucinando la cena che combini in cucina quest'ora prima live io dal divano grande tommy ben benvenuto se è la tua prima live e goditela sul tuo tv 4k 250 pollici ciao luca puoi andare su info binance e dare un'occhiata al ranking delle coin guarda la seconda in classifica e la sua capitalizzazione dimmi la tua errore secondo te info binance che cos'è cioè cosa cosa è successo che cosa cosa c'è in sé che nella seconda capitalizzata e dov'è soprattutto info binance è che purtroppo c'è il bot che blocca i che blocca i link se no ti avrei quasi chiesto a no eccolo qua ti avrei quasi chiesto di postare il link allora aspettate che ve lo condivido anche con voi così se c'è da farci una risata perché binance ha fatto una gaff lo scopriamo subito dot coin questa che cos'è in effetti da dove è saltata fuori no c'è un errore per forza c'è un errore per forza direi dot coin perché poi miseria ma che cos'è che cos'è sta coin qua criptopia no scusate sono un attimo spesato website rimanda criptopia secondo me c'è qualcosa che non va e cosa cosa ne dite voi a me sembra abbastanza non lo so se qualcuno sa qualcosa lo dica perché mi sembra cioè non è il primo aprile oggi no non lo so non non saprei proprio che cosa cosa possa essere grazie comunque per la segnalazione perché in effetti è molto molto curioso audio perfetto meno male io dal divano ma con l'aria condizionata bravo anch'io lo tengo la porta aperta infatti per far fluire dentro l'aria condizionata se no ci sono due milioni di gradi ma questo serum e questo serum spinge spinge parecchio serum infatti tra poco ne parliamo un po' perché ne vale la pena bene 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 ciao luca secondo te rsr verrà listato in altri exchange tipo coinbase o binance guarda io credo cioè coinbase ma aspetto di sì prima o poi perché comunque coinbase ventures è tra gli investitori ovviamente è un progetto che è appena nato ha tantissima strada da fare soprattutto per le ambizioni che ha quindi non credo che le cose accadranno in fretta cioè bisogna avere pazienza aspettare però nel frattempo vale assolutamente è la pena seguirlo perché anche perché insomma il grafico è interessante in questo periodo poi magari ci buttiamo anche un occhio riguardo a binance anche lì vedo che sulla defy le sta listando un po' tutte quindi non mi stupirebbe vederlo listato però è più imprevedibile ciao luca puoi spiegare cosa succede nei primi minuti di listing di una coin ad esempio band che è live da dieci minuti dove su coinbase è live da dieci minuti credo non lo so che cosa sta succedendo a band a dir la verità se ha pompato ha dampato ma di solito fa una di queste due cose sembra essere abbastanza ferma band insomma sta un po' si sta muovendo senza particolare reazione no rispetto al listing su coinbase pro cioè meno 6 per cento ma sta stornando un po' dopo questo pump senza senso che ha fatto è una delle coin che mi fa più paura in assoluto ben da dire la verità in questo periodo e insomma poi poi magari ci spendiamo due parole comunque appena una coin lista viene listata su un exchange grosso fondamentalmente cosa fa cioè è volatile guardate serum oggi ad esempio che ha fatto una sparata fino a 5 dollari poi è ritornata 1 e 30 adesso è stabile sull'1 e 30 circa ma è assolutamente imprevedibile questa è la cosa che secondo me vale sempre quando una coin viene listata cioè non si può sapere se pompa se dampa quanto arriva quanto non arriva è completamente imprevedibile motivo per cui io non ho ve l'ho detto non ho non sono entrato in io in serum e col senno di poi me ne pento perché avevo gli ftp avrei potuto provarci sapete che la mia politica è quella di basso rischio eccetera eccetera che però mi fa mancare mi fa perdere un po' di opportunità e una di queste è stata serum perché io ho detto ma si aspetto un attimino e poi quando arriva mercato un po' di maturità ci investo sopra e allora non ho investito nella io che ha fatto 13 per nel momento stesso del listing nel momento del listing meno che meno perché è proprio completamente imprevedibile io penso che aspetterò un po' di tempo giusto da fargli fare un po' di storico e da dargli un fair price quanto meno da vedere un po' di livelli chiave di prezzo perché al momento se no è un po' è un po' random no comprarla oggi non si può non si può sapere bene dove può arrivare ciao luca ti credevo in vacanza non ancora non ancora ci vado ci vado ci vado tra due settimane circa yes non vedo l'ora mi ci vuole mi fa piacere vederti live undicesima presenza non stop ma grazie grazie e grazie spero che si vada avanti con queste presenze sempre di più sempre di più mi fa piacerissimo vedervi sempre belli numerosi ciao se un sito defi scritto defi proprio d e f ai mi piace scusa non voglio prenderti in giro però è per strappare un sorriso tipo ave non fosse più raggiungibile l'investitore riuscirebbe a riprendersi i suoi fondi grazie allora è una domanda intelligente in realtà ci sta tutta la risposta è sì perché si basano su smart contract cioè il sito in sé non è una piattaforma un database qualcosa di centralizzato ma è un'interfaccia con uno smart contract e quello smart contract in realtà è attivabile anche semplicemente dal tuo wallet ethereum se tu mandi una specifica transazione ad esempio interagisci con una specifica funzione ad esempio etherscan che è la piattaforma di un explorer della blockchain ethereum permette di interagire direttamente con gli smart contract quindi di chiamare le funzioni dagli input output eccetera cioè input in realtà output no però tu già da lì in teoria puoi fare tutto quanto quindi non ti devi preoccupare tra l'altro molte applicazioni molti wallet al momento si stanno integrando con tutti con tutte le maggiori piattaforme come defy compound appunto ave piuttosto che fulcrum uniswap eccetera eccetera quindi non direi che non ci sono particolari problemi in quello non c'è da temere insomma è il bello della decentralizzazione porca troia a breve buy the dip e occhio è però al buy the dip perché è bello da dire però a volte è meglio è meglio starsene buoni perché altrimenti c'è da aver paura ciao luca prima live contento di seguirvi e interessato di sentire la tua analisi grande mi fa stra stra piacere e benvenuto tra noi bitcoin valley sembra attiva e bullish ovviamente ma che bello guarda un giorno ci vengo davvero a fare un giro primo perché il trentino è fantastico e secondo perché c'ho pure la scusa della bitcoin valley ciao a tutti buonasera su conio le commissioni sono basse ma che ampissimo margine che si tiene conio sul prezzo c'è un po di spread in effetti effettivamente l'ho notato anch'io anche gold meno 4 anche gold ha dampato tra l'altro l'azionario invece se non erro è andato benino oggi oddio abbastanza non particolarmente mi ricordavo di più vabbè abbastanza verde però in effetti anche l'oro c'è da dire che era bello esteso perché il nostro caro oro ha avuto un pump notevole insomma tra l'altro potrebbe essere interessante magari farci anche un'analisi perché un magari un take profit per chi ha fatto un trade speculativo potrebbe essere un una cosa auspicabile quantomeno magari poi durante i grafici ci buttiamo un occhietto anche a lui allora andiamo avanti adesso con le domandine ciao luca vorrei investire su op start su the rock trading ma sinceramente non riesco a capire che cifre può aver senso per avere un ritorno degno del termine si parte da 500 euro ma non credo ne valga la pena guarda dipende nel senso è come se tu acquistassi un'azione vedi là in questo modo di una startup di una piccola impresa che è in fase proprio iniziale quindi alto rischio alto rendimento e al di là del banale rendimento che puoi avere sulla singola azione hai anche dei benefit quindi l'altra domanda è magari sei interessato a questi benefit sei interessato più ai benefit che alla speculazione al prezzo perché in realtà io cioè questo investimento vedrei forse in secondo piano quasi la speculazione cioè come investimento ci sta perché è un'azienda che può avere un futuro e secondo me ce l'avrà personalmente vedendo come si sta muovendo e quindi da vedere come un investimento più a lungo termine anche se si listassero in borsa tra sei mesi per dire e facesse per due per tre non so se me la sentirei di vendere proprio perché insomma è un'azienda che secondo me ha tanto da dimostrare tanta strada da fare e tanto valore magari da portare al suo interno soprattutto se poi le cripto diventeranno mainstream piuttosto che andranno a crescere come popolarità allora ovviamente la cosa diventerà ancora più interessante e per la cifra minima è un po' come chiedere ma quanto investiresti in bitcoin quanto investiresti in un'azione di una piccola azienda che può promettere tanto ma è ad alto rischio cioè c'è da porsi un po' la stessa domanda se invece parlavo dei benefit perché se il tuo unico interesse è avere i benefit come il 50 per cento di sconto sulle fees allora tu investi il minimo c'hai i tuoi benefit e poi tanto meglio se ci guadagni in futuro con l'apprezzamento dell'azione stessa un po' questo il discorso che vale la pena di fare invito per mauro caimi ma perché no guarda mauro piace anche a me voto anch'io per l'invito per mauro bell'idea guarda quasi quasi una chiacchierata sul trading con due voci potrebbe essere un'idea simpatica ui bitcoin impicchiata no dai non è ancora impicchiata poi lo esaminiamo ciao a tutti ragazzi grande vice in holder ben ritrovato mi raccomando scilla ci qualcosa anche oggi ciao luca lo sai qualcosa di banano guarda so che è una meme coin tipo nata per prendere in giro nano e insomma è alle stesse è un fork di nano mi pare nato appunto come meme però non so altro a dire la verità buonasera a tutti con un po' di ritardo ma ci sono grande gio ben ritrovato ciao a tutti perché non buttarci in mezzo anche alberto di acicripto perché no ma facciamo un mega brainstorming tutti insieme luca cosa ne pensi di serum un progetto interessante a mio parere non è interessante è è una bomba atomica secondo me e ve lo dico non non da cioè non non in maniera di interessata nel senso non mi pagano per dirlo l'ho nominato parecchie volte qualcuno avrà già pensato ma sicuramente c'è intrallazzato se magari ci fosse intrallazzato no in realtà sono assolutamente fuori non ho nemmeno un serum e quasi quasi userò gli ftt che depositandoli su ftx ti danno ogni settimana due due serum mi pare sono un elemosina però quel poco che posso fare lo posso fare e comunque no a parte gli scherzi è un progetto interessantissimo tant'è che molti di voi mi hanno scritto dopo che l'ho nominato in passato dicendomi ma perché non ci fai un video perché e quindi credo che alla fine ce lo farò insomma è un exchange decentralizzato di prodotti derivati cross chain con possibilità di fare staking una governance in stile defa insomma con le votazioni nodi micanodi un enorme incentivo a fare staking insomma c'è tanto al fuoco quindi ne parleremo sicuramente arrivato ora che cosa mi sono perso ma in realtà un po di chiacchiere un po di domande iniziali così le analisi ci sono ancora che ne pensi di iost sai che mi cogli impreparato purtroppo non lo conosco se vuoi ci possiamo guardare il grafico dopo io mi taglio la barba ottimo con il mio live dietro occhio chiudi il grafico di bitcoin che poi se dumpa ti parte via la lametta e ti tagli ti inizia a dissanguare ottimo con il dumping diretta mi sia aperto una posizione long speriamo porti bene dove era lì nell'area 11004 no cos'è 11002 11004 quell'area di primo supporto vediamo vediamo insomma perché se dovesse tenere quell'area lì sarebbe un gran bel segno e bisogna ancora vedere il come si chiama la reazione la chiusura di questo di questa candela non mi ha mai attratto troppo trash il video dei 5.000 iscritti di qualche giorno fa a chi si riferì a una risposta a alberto di accicrito non lo so non l'ho visto ma avete convinto andarmelo per farmi due risate a me piace un sacco il trash eccomi qua buonasera a tutti buonasera anche a te ciao luca sto facendo un botto con band allora ti invidio dico la verità perché io me lo sono perso completamente e mi faccio una risata perché come dire sento un sacco di gente che mi prende in giro sei rimasto fuori sei rimasto fuori però a parte gli scherzi grande però attenzione cioè abbia un exit strategy abbia una c'è una gestione di band proprio perché altrimenti rischi di cadere un po vittima anche tu della fomo quindi se hai fatto un bel un bel risultato grande bella per te però mi raccomando non trascurare la parte del take profit perché è fondamentale quando delle coin cioè al di là della bontà o non bontà del progetto io credo che sia buono ottimo anzi quando una coin a un'estensione del genere di solito poi ne segue un bear market di durata parecchio lunga quindi attenzione anche a quello insomma avere una strategia anche per quello criptopia brutti ricordi molto brutti tra l'altro io c'è sono è dal 2017 che sono dentro le cripto e chi nel 2017 non ha mai fatto un trade su criptopia vi ricordate quelle coin insulse che c'erano che facevano 100 per in un giorno senza nessun tipo di motivo partivano con volume nullo poi pompavano e poi dampavano lentamente che sto che ricordi mamma mia e poi ciao se n'è andato criptopia scammando tutti bello bello contento ciao band è un oracolo come link se si gli può fare le scarpe allora è un oracolo come link le differenze principali sono che band è se non erro non lo conosco benissimo ma dovrebbe essere sulla piattaforma cosmos che è un po più di vantaggi forse rispetto ethereum però c'è da dire una cosa cioè sono due livelli di sviluppo completamente diversi cioè band bello e tutto però è 100 volte ancora più indietro rispetto a chain link in quanto a integrazioni a utilizzi a concretezza con questo non voglio dire che uno è meglio dell'altro sono semplicemente in due stadi diversi dello sviluppo link all'inizio ovviamente non era niente era poco più che vaporware ricordo se ne parlava su 4chan c'era diventato un meme poi ha dimostrato insomma di passo dopo passo di fare ha ottenuto risultati pazzeschi perché al momento in quanto oracolo è il più utilizzato in assoluto nelle varie piattaforme defi e non band è interessante perché essendo più orientato al cross chain e più performante di link poi ovviamente anche link immagino che implementerà soluzioni in quell'ambito lì però ovviamente essendo anche la defi adesso propensa moltissimo al cross chain che è un altro tema fondamentale motivo per cui io sto tenendo d'occhio molto bene atom e polkadot nonostante sia un po più speculativo al momento andando in quella direzione lì insomma non si può trascurare quegli elementi e quindi band forse si pone c'è più hype proprio per questa ragione tuttavia adesso il prezzo per me è totalmente ingiustificato al di là di questo poi lo so sono un rosicone ho perso il treno eccetera eccetera però cioè io è il mio modo di operare questo a basso rischio tendo a mitigarlo e quindi se una coin è iper estesa che sia adesso che sia due settimane fa era sempre iper estesa per me e quindi preferisco un miss piuttosto che una perdita perché poi col senno di poi è più facile ma dirlo prima andrà bene andrà male non è così altrettanto facile interessantissimo l'ultimo video di conio complimenti ottimo il fatto di poter recuperare le chiavi di sicurezza sì era interessante anche secondo me quel tema lì tra l'altro ho sentito da qualche parte non ricordo se l'ho letto ho sentito però era una fonte sicuramente autorevole che quella tecnologia lì delle tre chiavi quella brevetta brevetta creata effettivamente dal team di conio è stata è caduta nell'interesse anche di quali di libra cioè non è proprio una cosa da poco ciao luca cosa ne pensi di digitex ho provato l'exchange ma non mi sembra abbia molto volume ancora guarda non l'ho mai provato ti dico la verità non te lo so proprio dire dunque 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 iost ok poi lo guardiamo mai convinto defi dead chi è è italiano e un altro per sempre per la defi e qua si parla di chi invitare insomma chi con chi chiacchierare ciao luca perché qualche volta non ci illustri come eseguire un breakout trade speculativo di brevissimo a volte si fanno ottimi profitti se abbinato ad un buon money management guarda questo è vero da un lato io a me non piacciono tantissimo i breakout trade ti dico la verità perché spesso sono degli sweep quindi c'è un po ci sono un po queste due facce della stessa medaglia ovvero da un lato lo sweep ovvero l'andare a pescare dalla liquidità e poi dampare immediatamente e dall'altro il breakout trade ovvero andare a pescare dalla liquidità che catalizza il movimento in salita o in discesa in base alla direzione e potremmo magari parlarne in un'unica occasione poi dipende ovviamente da dove c'è sbilanciamento se a favore della domanda dell'offerta sono dei trade molto 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 rischiosi perché sono quasi scommesse oserei dire però potrebbe valer la pena conoscerli si se implementati in un buon money management quantomeno potrebbero potrebbero avere un loro perché peccato per the rock trading order book ristretto e volumi molto bassi si il 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 difetto più grosso di the rock trading è proprio quello insomma i volumi abbastanza bassi purtroppo però se dovesse andare a sopperire a quello magari con la campagna di comunicazione che vogliono fare un po di marketing caspita fees competitive in italia con tutti i piani che hanno sarebbe veramente ottimo ne sarei molto fiero come italiano insomma ci sono anche io stranamente perché stranamente chi chi fatti riconoscere buonasera a tutti dampino sì dai per ora ancora un dampino grazie per condividere le tue info i tuoi studi gratuitamente e aperti a tutti purtroppo il nostro amico Ivo Avidold si è raccolto parecchi soldini per consigliare dot che avevi già analizzato tu in anticipo ma guarda alla fine cioè oddio le informazioni sono pubbliche ognuno è libero di seguire chi vuole di fare quello che vuole e alla fine cioè siamo tutti dotati di libero arbitrio a me sta simpatico lui come personaggio non so esattamente cosa faccia o cosa non faccia a me fa molto ridere e beh mi fermo lì non giudico nessuno insomma ma TRT non sarà già una cosa vecchia se vediamo progetti come Serum in lancio Moon dunque 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 in che senso? ma no c'è cosa c'entra alla fine in realtà TRT cioè non c'entra un po' con quello esatto mi si è aperta a 11.348 stop loss a 10.600 ci sta sotto i 10 eh sì ci sta alla fine ha una possibile posizione adesso poi magari le andiamo a a identificare meglio dunque 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 pensi sia tardi per entrare long su Tezos per posizione speculativa Tezos è proprio una di quelle coin che vi volevo far vedere dopo proprio perché è interessante hai più seguito il progetto Ampleforth c'è stato un panic sell o sbaglio? non sbagli ma in realtà è fatto cioè è il suo DNA è un po' quello di seguire ciclicità molto marcate non bisogna né spaventarsi né essere preda della FOMO per quale motivo? allora andiamolo a vedere intanto facciamo un'eccezione alla regola e andiamo a vedere eh no questo è Ampleforth Bitcoin USD così si vede meglio eccolo allora 0.66 vi ricordate no Ampleforth come funziona? funziona che se è sotto un dollaro più o meno cioè meno 5% quindi 0.95 fa il rebase negativo quindi contrai la supply se è sopra un dollaro e 0.5 aumenta la supply questo è per cercare di tendere sempre al valore di un dollaro quindi bisogna guardare in sostanza più che il prezzo che da solo non è sufficiente poi a giustificare il suo andamento c'è da guardare la market cap la market cap dov'è Ample eccolo è variabile eccola quella in azzurro allora tiriamo via il prezzo e lasciamo solo la market cap la market cap ci fa capire un po' come sta andando e come vedete abbiamo un po' di cicli di salita e contrazione salita e adesso finalmente cioè dico finalmente perché altrimenti non era sano per l'ecosistema che vuole creare abbiamo una fase di correzione effettiva perché è come secondo me ha più senso fare un'analisi sulla market cap piuttosto che sul prezzo un'analisi tecnica anche banalmente e qua si può vedere le classiche onde di Elliot anche il classico le classiche fasi di un movimento rialzista a cui poi ha seguito una brusca correzione ma è normale perché Amplefort si basa un po' sullo squilibrio domanda offerta ci sono fasi di equilibrio che al momento che è un progetto nuovo sono rarissime per non dire inesistenti e fasi di squilibrio adesso c'è stata la prima fase di squilibrio in favore della domanda vi ricordate quanta FOMO c'era verso Amplefort è arrivata a 4 dollari quasi perché continuava poi è molto a feedback positivo perché quando sale la domanda sale il prezzo rebase positivo e quindi è come quasi un airdrop continuo di nuove coin e prima o poi si arriva a una massa critica perché altrimenti crei ricchezza dal nulla non esiste una roba del genere e quindi si ha la fase correttiva bella forte anche perché la fase di PAMP è stata marcatissima e quindi adesso deve cercare una nuova baseline che potrebbe aggirarsi facendo una banalissima analisi su porti e resistenze intorno ai 130 milioni di doll tra i 100 e i 130 milioni di dollari di market cap sulla quale mi aspetto un po' di rallentamento di stabilizzazione e di riavvicinamento al dollaro oggi qualcuno tra l'altro mi ha fatto un commento che mi è piaciuto mi ha chiesto ma come mai cioè non potrebbe adesso continuare a scendere il prezzo scendere la supply quindi la gente è ancora più incentivata a vendere e prima o poi si arriva che non vale più nulla in realtà ecco questo è il classico pensiero che guida la fase ribassista si basa proprio su questo è sempre un feedback positivo quando sale continua a salire il prezzo è alto si creano nuove coin siamo tutti ricchi quando scende il prezzo scende la supply scende nessuno sembra incentivato a comprare finché non inizia a generarsi domanda ok perché perché la supply si riduce quindi comprando meno coin magari a un prezzo più basso si riesce ad ottenere una quota maggiore del mercato a far risalire il prezzo quindi basta un minor capitale per manipolare tra virgolette il prezzo e inizia a esserci gente interessata a farlo e lì si innesca poi un altro ciclo feedback positivo rialzista un po' questa la logica di Ampleforth e in base poi a come si svilupperà il progetto perché è tutto da scoprire non è scontato che continui poi a crescere però la sua ipotesi di crescita è basata proprio su questo su continui squilibri domande offerta che tendono poi a convergere a un punto dove l'equilibrio sarà molto più frequente dello squilibrio anche perché altrimenti sarebbe la coin meno stable che esista e non diventerebbe mai un benchmark poi per la DeFi e cioè un po' come se posta all'inizio che vuole essere appunto una coin stabile da utilizzare come base per la DeFi scorrelata dagli altri asset però se diventa più volatile della peggio shitcoin allora non ha nessun tipo di senso allora Vichy Lai qualche mese fa ultra quella legata al gaming se non ricordo male sta andando bene nell'ultimo periodo post mainnet il discorso gaming si è un po' fermato per me rimane uno dei settori con più margine di crescita guarda lo penso anch'io sotto un certo punto di vista perché è un settore interessante non è trending come dici anche tu giustamente al momento i trend sono diversi sono altri e poi le crypto procedono un po' a trend cioè si tende a focalizzarsi su una cosa e a dimenticare tutto il resto adesso pompano solo gli oracoli non so se avete visto giusto per per farci sempre due risate perché a me fa molto ridere come cosa DOS Network che è un altro oracolo che l'ho scoperto su Twitter cioè ha fatto una roba insensata è passato da 0,0017 a 0,3 cioè ha fatto 200 per una roba perché? per quale motivo? perché vanno di moda gli oracoli cioè Chainlink Band tutti gli oracoli hanno pompato anche Tellor che è l'altro oracolo che anche lui ha fatto una performance senza senso cioè guardate che razza di numeri insomma non sono minimamente giustificati cioè sono un settore interessante quello degli oracoli ma qua parliamo veramente di bolla speculativa quindi attenzione non confondiamo mai valore e prezzo perché il valore è indiscusso cioè gli oracoli sono fondamentali gli oracoli sicuramente serviranno e ne servirà più di uno quindi in futuro sarà un settore in continua crescita così come la DeFi così come erano stati i token al tempo l'interoperabilità tra Chain eccetera eccetera però questo non deve voler dire che un prezzo fa 100 per nel giro di pochi giorni quando non c'è manco o quasi un prodotto finito quella è mera speculazione ed è destinata poi a spegnersi con un bear market conseguente insomma dunque dove ero arrivato prossimo dampone è ERD e anche ERD poi sì c'è la nuova tokenomics avevi detto c'è mica ERD Gold una roba del genere che non sembra un granché ho letto la notizia che tu hai postato su Komodo una puntatina mi sa che visto il trend oracoli forse va fatta guarda Komodo per me è gioie e dolori nel senso che la mia storia con Komodo inizia nel 2017 perché l'ho sempre reputato un progetto veramente sottovalutato se ne parlava poco perché non hanno mai spinto sul marketing ma come sviluppo hanno sempre spinto veramente un sacco cioè portavano risultati portavano al tempo gli Atomic Swaps avevano già sulla loro blockchain che era una cosa totalmente rivoluzionaria innovativa però il problema è che nessuno l'ha mai conosciuto quasi non sono mai non ha mai fatto quel passo in più da dire facciamoci conoscere da tutti e così sono stati un po' lasciati indietro alla fine anche durante il trend della DeFi in cui si poteva tranquillamente inserire perché il Dex di Komodo basato su Atomic Swaps era praticamente il primo al tempo a portarle a termine solo che poco marketing scarsa UI UX quindi la user experience cioè era difficile da usare come interfaccia era abbastanza scomodo poi vabbè diciamo che il nome non è proprio dei migliori cioè chiamare una coin Komodo potrebbe essere quantomeno discutibile e quindi purtroppo è rimasto un po' lì è vero in questi giorni hanno comunicato di aver creato il loro oracolo decentralizzato e mi pare che abbiano anche Noji poi alla fine è stato assorbito però aveva aveva un po' pompato sì ha pompato un po' poi è stato subito riassorbito ma anche Compound se non ricordo male ha creato il suo oracolo recentemente eppure anche Compound non è che stia andando granché bene perché insomma è in downtrend perenne ha dato qualche segno di vita però insomma c'è ancora da assorbire tutto sto candelone qua c'è della strada da fare insomma anche quello sta scontando un po' la Burran l'AIP che c'è stata nel periodo scorso tu cosa ne pensi di DOT e del prezzo attuale allo sblocco del token in ICO Dumpa per me sì guarda io credo che il prezzo attuale sia completamente speculativo totalmente speculativo e non specchio del suo reale valore perché effettivamente io lo sto seguendo su FTX eccoci e cioè è partito cioè c'è su FTX su Wobby mi pare non so dove altro forse su KuCoin e il fatto è che i token appunto sono bloccati cosa vuol dire? vuol dire che non c'è la liquidità totale in circolazione e il prezzo è manipolato da una liquidità più bassa quella soltanto sugli exchange poi questo su FTX ad esempio è un future quindi è uno strumento derivato e non fa testo per quanto riguarda il movimento di prezzo in quanto non è lo spot market non è il token effettivo i token effettivi sono pochi e quindi è un prezzo che non è non è specchio effettivo del mercato cosa succederà quando verranno rilasciati? non si può sapere non lo so io mi aspetto che probabilmente ci sarà un po' di offerta perché chi magari ha lì il suo token lo vorrà vendere soprattutto se adesso il prezzo pomperà e quindi un dump è altamente plausibile tuttavia da lì in poi si inizierà a creare il vero mercato e quindi avrà senso iniziare a guardare il prezzo questa fase è una fase totalmente speculativa a fine a se stessa quindi la lascerei un po' lì ecco non la osserverei ma pensare di fare un investimento adesso non lo so poi magari questa frase invecchierà malissimo perché poi verrà dieci volte tanto però sempre per la mia politica del mitigare il rischio io la vedo in questo modo lo sblocco è il 17 agosto se non erro non te lo so dire guarda aspetta che ci guardo così token unlock ci guardo così diamo questa informazione a tutti vediamo vediamo se qualcuno lo dice in realtà forse no non lo trovo forse dovrei controllare su twitter se qualcuno ha questa informazione per piacere ce la condivido che così non sto a cercarla un'ora che vi faccio diventare matti comunque serum da oggi no il 21 qualcuno dice il 21 può essere può darsi in ogni caso sicuramente è un progetto da seguire questo non ci piove polkadot e per esteso anche atom perché atom e polkadot sono due fratellini che combattono un po' la stessa battaglia diciamo questo serum da oggi alle 15 1080 per cento su binance pensa che era 10 10 centesimi al prezzo dell'aio e io sono stato a guardare bravo bravo pirla ditemelo dai bravo pirla me lo merito però che dire io devo rimanere fedele alla mia strategia perché la volta che poi decido di farmi tentare e di entrare in un'aio poi va a finire che dampa lo so lo so già come funziona Luca la tua posizione su bnb io sono uscito troppo laterale per troppo tempo per i miei gusti è ancora aperta è ancora assolutamente aperta sia quella speculativa che quella di holding allora andiamo a vedere a tal proposito un po' di graficozzi amici miei partendo da bitcoin bitcoin e tra l'altro ecco parentesi visto che parlavamo di serum anche solana teniamola in considerazione perché serum è costruito su solana adesso ovviamente è figlia di hype ai massimi però vale la pena tenerla in considerazione perché tutto quello sembra anche questo una marchettata schifosa ma è un mio pensiero personale non sponsorizzato ve lo giuro qui mi colpisse un fulmine se non fosse vero che tutto quello che toccano quei maledetti della Lameda Research diventa oro cioè io io la vedo così da investitore di FTT ecco quello è l'unico interesse che ho nel promuoverli diciamo però insomma solana me la devo studiare ce l'ho segnata perché ancora non la conosco e tra l'altro qualcuno di voi mi aveva detto che non gli piaceva granché me la devo studiare però me la sono salvata sulla watchlist perché se loro ci hanno costruito sopra un progetto così ambizioso un motivo ci sarà chiusa la parentesi andiamo a vedere i grafici allora bitcoin bitcoin al momento si sta muovendo in un range in una lateralità la lateralità sembrava voler essere triangolare prima di questo tipo ok una cosa del genere al momento però sembra ritendere di più all'orizzontale proprio perché la candela di oggi di sell off si è andata a rimangiare un po' di spazio quindi gli scenari possibili in questo range erano due sono ancora due in realtà dipende poi da come chiude questa candela triangolo ascendente quindi una e la seconda è orizzontale il range high e il range low in tal caso beh in entrambi i casi il range high è costituito dai 1180 qualcosa che è la chiusura giornaliera di top e il pool di liquidità soprastante ho visto che qualcuno mi ha chiesto prima in chat che cos'è un pool di liquidità e come lo individuo allora in sostanza un pool di liquidità è un'area dove si annidano tanti ordini in sostanza io la individuo in maniera concreta in due modi il primo è quando vedo che in un'area ci sono molte shadows che arrivano e poi la candela chiude oltre ad esempio questo è un esempio chiaro vedete che molto spesso la domanda ci entra cioè scusate l'offerta in realtà ci entra perché è un pool di supporto e poi viene respinta quindi viene tutto comprato il movimento che viene fatto lì all'interno il che vuol dire che in quell'area lì si annida domanda c'è domanda c'è accumulazione e quindi quello per me è un pool di liquidità in domanda l'altra parte del pool di liquidità è un po' è più un livello che un pool vi faccio un esempio concreto anche in questo caso che funziona meglio questo punto qua che è il top assoluto di questo movimento di questo momento qua storico diciamo i 12.170 è un'area che se superata cosa fa secondo voi innesca liquidità innesca stop loss innesca breakout trades innesca tanta forza e quindi qua sopra per me è un pool di liquidità ci si annida liquidità superando questo livello si scatena tale liquidità che è già in realtà sull'order book perché non è tanto nascosta questa magari è più nascosta perché non è tanto un livello da stop ma è un livello più dove la gente fa market buy ok in quel senso un pool di liquidità nascosto se vogliamo questo non è per niente nascosto perché lo sanno tutti che se il prezzo dovesse arrivare lì innescherebbe un paio di candele quantomeno sull'intraday con dei volumi belli cicciotti proprio perché si muovono stop si muovono ordini qualcuno shorterà qualcuno allongherà ci sarà della gran turbolenza e poi diventa rivelatore e a tal proposito andiamo avanti anche con l'analisi perché è una cosa da dire questa cioè uno degli scenari era proprio quello lo scenario bullish da cui ahimè ci stiamo un po' allontanando al momento ma mai dire mai lo scenario bullish era proprio la prosecuzione rialzista l'innesco della liquidità sopra ai 12.170 e vedere la reazione che il mercato avrà con tale pool cosa vuol dire? vuol dire che le reazioni possibili sono due quando c'è un approccio a un pool di liquidità di questo tipo con gli stop quindi non nascosto chiamiamolo il primo è che gli stop ovviamente fanno alzare il prezzo cioè scatenano dei market buy qua ci sono tantissimi market buy nascosti gli esiti rispetto a questi market buy sono appunto di due tipi il primo è che la domanda prevale cioè i market buy fanno salire il prezzo l'offerta non è sufficiente a sopprimerlo e non è interessata a farlo la domanda cavalca l'onda aggiungendo altri market buy quindi liquidità in domanda sovrasta la liquidità in offerta si conclude con l'evidence la prova qual è? la prova è che abbiamo un candelozzo verde che ti va a chiudere distante dal livello che ha innescato la liquidità questa è una prima prova che la domanda ha vinto una prova invece che l'offerta ha vinto cosa vorrebbe dire? che io vado attacco alla liquidità pompa perché si generano gli stop buy quindi i market buy l'offerta sovrasta ne approfitta per fillare i suoi short per fare market sell su tutta questa liquidità minimizzando lo slippage vi ricordate il nostro discorso e va a finire che il prezzo si abbassa con volumi altissimi la classica candela di stop hunt con una shadow che va oltre il livello volumi altissimi perché abbiamo gli stop buy e i market sell che li contrastano la chiusura di nuovo sotto al livello o vicina adesso quindi abbiamo due gradi di gravità diciamo della preponderanza dell'offerta il meno grave è che abbiamo una candela con shadow lunga e con una chiusura magari qua ad esempio vicino ma sopra il caso più grave è che la chiusura è sotto e questo è veramente brutto perché fa capire che questa è una candela bearish per quanto mi riguarda è una candela che mostra che sono stati triggerati tutti gli stop e tutta la liquidità quindi il pool di liquidità si sposta da qui a qui e quindi per andare a generare un'altra reazione di stop buy eventualmente da cavalcare c'è da arrivare fin qui e quindi si sposta in alto il target è brutto cioè diventa più difficile il gioco e inoltre fa vedere che tanti tutti questi qua hanno fillato degli short quindi hanno shortato ci sono grossi giocatori che hanno shortato e quello non è mai un buon segno fondamentalmente perché solitamente sono un po' loro a guidare il prezzo non esiste certezza matematica ovviamente però sono impronte lasciate dai big players al momento questo scenario sembra distante perché perché ci siamo arrivati vicino ma non esattamente sopra al livello necessario per scatenare la liquidità quindi abbiamo fatto questo spike qua insomma che non vale niente perché è poco sopra a questo quindi il riferimento rimane sempre questo per il top scatenante liquidità abbiamo invece un livello chiave che era il livello di supporto resistenza che attualmente è una resistenza che è 11.800 e rimane tale perché non lo riusciamo a mangiare non lo riusciamo a vincere ci abbiamo provato ma l'offerta poi ci ha rispinto all'interno e quindi lo scenario rimane ranging tra l'altro qua avevamo questo blocchetto che poteva essere visto come una sorta di range top va bene perché siamo arrivati lì abbiamo lateralizzato un po' distribuito probabilmente se adesso dampiamo in questo modo e abbiamo svenduto la chiusura della candela di oggi sarà molto rivelatrice perché nello stesso modo qua sotto abbiamo un pool di domanda si vede meglio forse sull'intraday sulle 4 ore in quanto questo range è relativamente fresco nuovo non dura da settimane ma si parla di giorni e abbiamo vedete questi due livelli 11.200 2 e 11.450 che sono due livelli dentro i quali appunto c'erano dei papabili entri aggressivi il contro l'unico contro di questi entri aggressivi è che questa liquidità è già stata un po' mangiata qui e un pelino anche qui adesso vediamo come reagiamo a quest'ultimo attacco sarà importante vederlo perché reagire con altra domanda quindi in particolare un reclaim di questo livello qua che è dove si è innescato il grosso dump vedete i volumi quindi l'assorbimento di questo movimento il ritorno qua in altre parole sarebbe veramente bullish perché farebbe vedere che abbiamo mangiato altra liquidità la liquidità ha fillato ordini d'acquisto cioè sono la reazione è stata di domanda e siamo ritornati lì sopra bellissimo segno vediamo perché l'altro scenario ovviamente è quello che rimaniamo qua all'interno e questo significa che una buona parte di liquidità è stata rosa non ha scatenato domanda quindi questa non è un pool di domanda effettivo e quindi siamo un po' lì lì cioè c'è da capire che intenzioni ha adesso bitcoin e la perdita infine di questa area ovviamente ci catapulterebbe al range low e c'è da vedere poi come reagiamo al range low perché ricordiamoci che agli 11.000 abbiamo un altro supporto forte questo quest'area di buono ha che è tutta un supportone praticamente ed è proprio per questo che l'entry che il nostro amico ha condiviso prima con noi sotto sotto ha un senso è un entry aggressivo ipotizzabile cioè aggressivo perché anticipa vuole anticipare il mercato però che ha il suo senso perché quest'area è una possibile area di ingresso appunto aggressivo anticipatore che presume che questo range è accumulativo d'altronde siamo sopra un movimento bullish molto forte stiamo lateralizzando e quindi l'ipotesi di accumulazione non è affatto insensata lo stop loss dove va messo cioè dov'è che si invalida questa ipotesi come giustamente diceva anche il nostro amico qua sotto proprio perché la perdita infine di questa area di liquidità in domanda insomma l'abbiamo detto prima che questo è un pool di liquidità in domanda perché ha scatenato market buy vuol dire che quella liquidità è stata assorbita ed è un pessimo segno e quindi in quel caso lì si apre il secondo scenario ovvero allora scenario 1 range ci siamo dentro adesso range low range high abbiamo visto tutti i possibili approcci qua in alto abbiamo la liquidità da scatenare e come reagiamo qua in basso abbiamo l'ipotesi aggressiva di accumulazione l'ipotesi di rottura del range quindi l'invalidazione dell'accumulazione e vediamo un po' adesso qual è questo altro scenario ovvero perdiamo il range andiamo ad assorbire la liquidità in domanda e scendiamo qui sotto abbiamo due aree area 1 e area 2 che le abbiamo disegnate tempo addietro se vi ricordate torniamo sul giornaliero perché secondo me erano riferite a quel time frame esatto e si configurano in questo modo allora qua abbiamo i top fondamentalmente della scorsa fase dello scorso movimento i top che sono 10.500 che è il top assoluto qua poi abbiamo 10.220 che è questa chiusura nonché la zona bassa di questo top poi abbiamo 10.000 che è questo top e questo top insomma il range high di questo movimento laterale sono tutti livelli estremamente importanti cioè non importanti di più quindi che vuol dire vuol dire che anche qua cioè nel caso in cui ovviamente la questo range venisse perso avremmo un'altra un altro baluardo a tenere queste due aree quindi nel caso di perdita di questo range potremmo avere o un flash dump che cosa significa significa che aspettate che tolgo un po' di sporcizia no sbagliato ok allora tolgo un attimo questi così ci capiamo meglio allora flash dump significa che andiamo ad attaccare il range low lo perdiamo si scatenano tutti gli stop loss e va a finire che abbiamo una shadow che è in grado di penetrare magari anche fin qui magari anche oltre chi lo sa dipende da quanto a cascata vanno gli stop loss guardate questa come esempio ok questa è stata violenta ma non sufficiente a pescare da qui dentro e quindi magari ci può essere un altro tentativo di attacco a questa liquidità perché questo spike qui nel mentre ha anche creato un pool di liquidità in stop ricordiamoci il discorso di prima quindi è buona probabilità c'è di oserei dire questo che in caso di perdita del range low di questo pool di liquidità in domanda abbiamo un innesco a cascata di stop di dump e questo potrebbe causare un cosiddetto flash dump ovvero una candela che scende 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 pesca e poi ritorna su proprio perché scatena la domanda queste due aree sono due papabili aree di domanda proprio perché si pongono come visto prima in corrispondenza di livelli chiave del precedente movimento quindi l'attacco il test di questi livelli mostrerebbe se effettivamente la domanda prevale oppure no se prevale e respinge verso l'alto e riconquista addirittura questo range è il classico setup long magari postumo non aggressivo quindi non anticipatore al contrario dei limit buy messi qua dentro sono un setup anticipatore se vediamo ad esempio che perdiamo questi due livelli e andiamo ad attaccare il range low si può fare il setup anticipatore del tipo di mettere dei limit buy qua dentro aspettando il potenziale approccio con essi proprio per sperare in un flash dump perché lì è veramente un ottimo ottimo setup che pone subito in vantaggio rispetto al mercato altrimenti attendere il reclaim del range low e quello è veramente anch'esso un segnale long interessante proprio perché fa vedere che la fuoriuscita dal range era una deviazione dal movimento che in realtà vuole avere questo è quanto direi su bitcoin quindi abbiamo capito un po quali dove puntare gli occhi ecco spero almeno andiamo a vedere le altre mie posizioni e poi rispondo a un po di vostre domanduzze altre mie posizioni sono allora bnb visto che ne abbiamo parlato prima bnb è anche oggi nell'entry area e voi mi direte ma mamma mia ho alla faccia doveva essere un'area di come si chiama di domanda di cioè sulla quale rimbalzo un supporto eccetera eccetera eh sì avete ragione potrebbe ancora esserlo nel senso il setup è ancora valido il mio setup era di entrare esattamente in quest'area stop loss sotto i minimi larghissimo rischio R classico quindi senza troppe pretese con lo stop loss largo e e basta e trend follower quindi da da seguire l'eventuale movimento fino ai alle prime resistenze che potrebbero essere questa quest'altra e poi c'è il range high e poi vabbè verso l'infinito e oltre però il setup è ancora valido perché in sostanza non mi ha fatto scattare lo stop loss cioè io accetto anche questo momento di indecisione va benissimo e ovviamente va benissimo anche se mi prende lo stop loss cioè vuol dire che ho sbagliato ma nel senso non mi piangerò addosso è una delle ipotesi possibili però andarla a chiudere prematuramente soprattutto adesso sull'entry stesso mi mangerei un po' le mani perché direi ma cioè allora cosa l'ho aperta a fare è vero che voi potete anche dire sì un conte era aprirla qua che sembrava che il movimento fosse così e un conte adesso che poi ha fatto un dump ha ripescato qui è ritornato su adesso ritorna lì e non è più esattamente il classico resistenza supporto il flip da resistenza supporto è vero però non esiste mai il setup da manuale spesso e volentieri si hanno delle modifiche e quindi ok se ci fosse un palese segno di offerta del tipo che non lo so adesso mi dumpa qua sotto poi ritesta e ridumpa poi probabilmente mi fa anche scattare lo stop loss quindi a quel punto lì non la chiuderei comunque prematuramente però in particolare adesso che sta approcciando di nuovo l'entry area anzi ovviamente questi non sono consigli finanziari mi raccomando guai a voi se entrate alla cieca solo perché io dico che entrerei però io se non fossi dentro entrerei va bene non fatelo se non sapete quello che state facendo e non lo volete fare voi per primi perché avete chiarissimo in mente il setup e la strategia ma io personalmente lo farei se non fossi ancora dentro e col setup che è il medesimo quindi io sono qua ancora che aspetto è come se fossi entrato oggi supponiamo poi Ethereum Ethereum che vabbè cioè che dire che aggiungere su Ethereum si comporta sempre da textbook ve lo dico sempre Ethereum Bitcoin fa dei continui flip resistance to support l'ultimo è questo su 0,0318 che l'avevamo identificato tempo addietro sul time frame settimanale se non erro eccolo vedete che nasce da qui i supporti su time frame settimanale su Ethereum sono una bomba cioè si comportano veramente bene e al momento rimango long chiaramente senza nessun motivo di volermi togliere né chiudere parzialmente posizioni e lo stop loss è qua sotto ok tac qui sotto stop loss stop profit però è qui sotto sotto a questa punta qua poi vi condivido anche Ren che ha una posizione interessante l'avevo condiviso su Telegram un po' di tempo fa se vi ricordate con questo questo possibile ingresso e in sostanza vedete ha stornato e quando era qui avevamo iniziato a condividere quella posizione long qua sopra qua sopra qua in mezzo o meglio stop qua sotto al low precedente nessun take profit ma trend follower continua a essere così l'unica differenza è lo spostamento dello stop a qua perché ha fatto higher high e quindi lo stop si sposta all'higher low questa è un po' la logica che seguo per fare i trailing stop manuali sarà curioso adesso vedere come reagisce vediamo sul settimanale qual è il livello è proprio questo il livello e quindi delle chiusure qui sotto non mi piacerebbero granché vediamo potrei valutare eventualmente di fare un'uscita parziale questo è un po' il discorso su Ren che al di là di tutto è un'ottima coin poi vi avevo promesso che ve ne mostravo un paio che reputo interessanti allora ed esse sono Atom ve l'ho detto Atom allora che l'ho condiviso anche su Telegram poco fa dovete seguirmi su Telegram ok è tutto gratuito non vi chiederò mai un euro non vi chiederò mai niente tutte le mie analisi le mie informazioni sono gratuite ecco quindi non pensate che vi voglia vendere qualcosa dicendovi entrate su Telegram potete anche non farlo se non vi va però trovate solo roba gratuita e il discorso è questo allora l'ho fatta su time frame settimanale l'analisi lì in questo modo guardate abbiamo due livelli importanti allora uno gigantesco questo verde che l'ho fatto gigantesco per un motivo per non missare ho preso questo cluster intermedio che si potrebbe fare anche solo col body però il discorso è su missare proprio quindi ci ho aggiunto anche la shadow proprio perché vale la pena entrare da qua fino a qua volendo e ho intenzione di farlo ho intenzione di aprire una posizione long lì proprio per via del trend possibile sulle coin cioè sulle piattaforme cross chain che è un trend che potrebbe veramente prender piede e al di là di tutto il grafico è interessante perché abbiamo questo livello qui che è stato reclaimed tac tac adesso stiamo lottando con una resistenza che nasce qui cluster intermedio anch'esso e vedete che ha dato un po' un pugno questo è uno sweep guardate qua abbiamo un esempio di sweep pazzesco abbiamo qua un pool di liquidità e per prima Giuseppe dicevamo del discorso dei breakout trades proprio per questo perché spesso si verificano questi sweep pool di liquidità not hidden direi perché ci sono tanti stop qua sopra arriva si viene triggerato e poi pam 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 subito l'offerta si palese te la ti sbatte immediatamente sotto ed è quello che è accaduto qua sweep degli high riperdita o meglio del top e anche del cluster di resistenza fino ad arrivare addirittura quasi a toccare il supporto quindi questo supporto potrebbe essere un buon entry nell'ottica di prevedere un movimento di questo tipo ok il senso c'è proprio perché questo è un costrutto di bottom abbastanza carino a mio parere i fondamentali ci sono eccetera eccetera quindi potrebbe valer la pena tenere d'occhio te si tezos atom l'altra che volevo vedere mi pare che fosse proprio tezos a tal proposito perché per quale motivo ah si eccolo perché allora anche questo è settimanale ma possiamo andare tranquillamente sul giornaliero che le cose non cambiano c'è un super mega giga range che è questo allora in passato l'abbiamo visto più volte sotto ipotesi di accumulazione quindi il solito discorso dell'acquisto in quest'area nel range low e altrimenti adesso si aprono le porte nel caso di breakout quindi di superamento del range high e ovviamente del pool di liquidità di top che è sempre è sempre da da tenere in considerazione no? quando si si ragiona sui sui break gli scenari sono i soliti quelli di cui abbiamo parlato prima quindi l'approccio col pool di liquidità dimostrerà se domanda offerta prevalgono quindi esempio rompe pam candela che chiude qui ha prevalso la domanda che fare long sul retest qual è l'area di retest? questa tac quindi posizione pulitissima stop loss dove lo mettiamo è anche lì degustibus nel senso che si potrebbe mettere ad esempio qui sotto con chiusura qui sotto che significa che il breakout è perso e quindi recuperiamo il range altrimenti c'è da vedere come si genera il breakout perché se ad esempio adesso flettiamo un po' e poi rompiamo a rialzo da qua origina il movimento di breakout stop loss qua sotto significa assorbimento dell'intero movimento di breakout questo è un po' il discorso e quindi anche tezos vale la pena considerarlo passo la parola a voi ok? che mi dite? ditemi qualcosa anchor mi ha missato clamorosamente l'entry a 43 andiamo a vedere anchor che ci dice anchor cosa c'è? ah è qua caspita no no la sfiorata la sfiorata mamma mia cioè tu tu avevi messo l'entry qui nel momento in cui la sfiorata il low è 43 che sfiga che sfigaccia però anche questo ha pennellato cioè a volte vedete quel satoshi in più che fa la differenza è per questo che odio le low sat coin mamma mia stai rosicando immagino su atom fatto il trade uguale sullo scorso swing ottimo io sono sempre in hbar ottimo in usd in btc sembra muoversi andiamolo a vedere hbar btc allora effettivamente l'unico livello chiave che avevamo tracciato che era secondo me nasceva su time frame settimanale andiamolo a vedere ma no neanche troppo però sembra effettivamente essere stato bucato allora l'unica cosa è che qua rimane un po' antipatico il fatto che abbiamo questo movimento un po' a strappi quindi strappo in basso strappo in alto e adesso se c'è un po' di liquidità la si trova qua che infatti ha già fatto lo sweep che non benissimo è la candela di oggi perché ha sweepato e ha ributtato in basso c'è da vedere un po' se c'è follow up al momento quindi il nuovo pool di liquidità diventa questo si è alzato un po' non mi piace molto la dinamica in usdt andiamola a vedere a questo punto se se c'è una dinamica un po' diversa è un po' figlio dei movimenti di btc quindi vabbè è un po' è simile diciamo c'è un po' di pool di liquidità un po' più in alto però non mi dice molto questo grafico dal punto di vista speculativo mantengo la mia linea che non non mi ispirerebbe particolarmente a dire la verità Luca please possiamo guardare gli indici di ftx alt e defy come no come no come no ce li ho salvati qua 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 alt perp allora le altcoins effettivamente stanno spingendo abbastanza ha recuperato 687 vedete il livello che aveva insegnato è il livello chiave oserei dire guardate quanti touch qua 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 eccetera eccetera e c'è stato un flash dump proprio lì tac e poi adesso sta lateralizzando un po' ecco questo è un po' toppi forse non mi piace moltissimo come costrutto c'è da vedere un po' dove rompe perché se rompe a ribasso e magari perde anche questo livello potrebbe non essere il massimo della vita anche perché se non erro adesso sono più le shitcoin che hanno pompato no? sì nuovi massimi shitcoin veramente trending all'inverosimile poi vabbè oggi ha dampato un po' cioè dampato ha un po' flesso bitcoin e quindi è è rimasto un po' così defy c'è qualcosa da aggiungere sta affrontando il primo supporto che è questo vediamo questa è una candela di sell off abbastanza importante quindi vediamo come chiude e in particolare se chiude qua sotto potrebbe iniziare una struttura di correzione sulla quale potrebbe valer la pena osservare la reazione per esempio qui tacchete questa che ne dite? potrebbe essere un primo livello da osservare anche visto il fatto che comunque ha un supporto c'è un supporto anche precedentemente analisi su link yes andiamo a vedere link allora link btc che è ripartito positivamente ovviamente allora qua vi ricordate il discorso della deviation l'avevamo fatto e poi ovviamente non ho aperto la posizione però l'ho lasciato qui come memento perché eravamo qua ci trovavamo in queste candele e avevamo ipotizzato che fosse una deviation ed effettivamente l'è stata accumulazione tac retest e via quindi c'erano tutte le possibilità di entrare a parte quello adesso è in zona massimi esteso e tutto quanto quindi personalmente non lo toccherei primo supporto nuovo potrebbe essere questo e questo la precedente zona del top con un'estensione del genere insomma scotta un po' perché vedete che sta andando un po' parabolico è vero è sempre stato in uptrend ma adesso un po' troppo forse non lo so a me sarà a me non piacciono le coin che salgono così in fretta è vero mi perdo tanti treni però non non mi ci trovo bene a fare trade in questo modo io magari sono io che ho da imparare anzi sicuramente è così poi BTC continua a dampare dampare addirittura è sempre lì è sempre lì all'interno di questi due di quei due livelli tra 11002 e 1100450 finché qua dentro non lo considero nemmeno un dump personalmente allora analisi su mana e RLC andiamo lì a vedere allora mana mana BTC eh pump scommetto dovuto alla notizia di 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 sandbox non lo so boh è un po' irregolare come grafico è l'unico contro è questo non mi piace granché il fatto che abbia avuto un pump del genere così dal nulla andiamo a vedere il settimanale perché il giornaliero non mi piace granché a dirvi la verità beh ha bucato una zona che era tosta eh che ha questa effettivamente era bella tosta c'è un possibile entry qui don't try di set home oserei dire però questo effettivamente è un possibile entry perché configurerebbe tutta questa su time frame settimanale tra l'altro come un costrutto di bottom quindi un possibile entry con stop loss boh facciamo qua sotto possibilità sì poi questa resistenza è già stata toccata vediamo potrebbe essere interessante gli sviluppi soprattutto anche con con sandbox appunto in arrivo magari catalizza poi poi cos'era l'altro rlc rlc che è ixh rlc avevamo già tracciato qualcosa ecco infatti dunque adesso sta tenendo un po' fede questo è il settimanale sì allora sta facendo un costrutto che non è bruttissimo perché sostanza questo è un supporto al momento è stato c'è stato tutto qua sotto un bottom effettivo poi è stato rotto e retest io non so cosa faccia questa coin se sia interessante o meno però dal punto di vista speculativo andiamo a vedere il daily potrebbe essere un triangolo questo che si sta formando sì una cosa tipo così e quindi su tale ipotesi visto il breakout eccetera 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 si potrebbe addirittura fare una posizione anticipatrice con entry in questa zona stop loss e trend follower e che dire non è neanche malaccio che coin è questa RLC il progetto com'è interessante vale cioè i fondamentali sono interessanti allora dove siamo dove siamo KNC assolutamente Kyber andiamola a vedere Kyber eccola allora ecco Kyber a tal proposito sta rimbalzando su un possibile entry perché vedete questa zona verde secondo me era sul settimanale anche lei ha una discreta importanza vedete c'è un cluster intermedio qua un po' di shadows quindi poi la rottura di questo livello che vedete puntiforme una bella resistenza questa e la rottura è stata convinta con chiusura lontana poi c'è stato un attacco un assalto di offerta papam papam però al momento ci troviamo in una zona di domanda quindi è un'altra coin impossibile entry questa con stop loss tra l'altro discretamente chiaro qua sotto sotto questi due pool di liquidità con un po' di respiro perché magari se lo vanno a cercare quello stop lì e quindi magari un po' più in basso in ogni caso sì è ben messa che dire è abbastanza ben messa questo cioè la prima reazione non è stata bellissima però comunque vedo che sta tenendo un trade un po' più rischioso però come trade anticipatore può avere il suo perché bene tiriamovi un po' di schifo poi RLC è un progetto francese fortissimo molto attivo da vari anni partnership forte con Intel me lo andrò a vedere CHZ come lo vedi possibile entry anticipatrice allora CHZ vediamo è quello delle squadre di calcio Urca sta triangolando praticamente tipo da sempre così così e vediamo sul daily e in sostanza la risposta semplice è sì magari cioè sì ci sono gli entry più interessanti forse più in vicinanza dell'up trend line però non è neanche male 100 sat era anche il point of control però è cioè in perenne triangolazione quindi volendo sì si potrebbe anticipare magari un primo target da queste parti e uno stop loss ad esempio qua sotto si potrebbe fare sì si potrebbe fare poi non lo seguo molto questo progetto neanche però why not dunque 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 Matic sta facendo anche lui un po' di irregolarità ha recuperato i suoi ultimi low che questo non è neanche malaccio però per me no perché boh è un grafico cioè ci sono troppi pump and dump tutti questi strappi qui pam 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 ma che è ma che è ma che è no non mi piace non mi gusta niente Matic allora cosa ne pensi del progetto banchera un po' fanalino di coda della DeFi ma guarda ti dico la verità banchera per me è abbastanza me come si suol dire no non mi piace te lo dico in maniera sincera non mi è mai piaciuto banchera scam ecco qualcuno l'ha detto Luca sei stanco eh mamma mia si vede no no oggi non devo neanche andare in palestra tra l'altro poi mi parlano di banchera cosa devo fare come devo reagire cioè dimmelo tu dimmelo tu bro gold andiamo a vedere gold perché ve l'ho promesso e poi vi saluto vado a dormire no scherzo allora andiamo a vedere gold xau xau usd allora no poi vi devo dare una notizia bomba altro che andiamo a dormire allora 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 qual era questo secondo me che avevo segnato i miei livelli sì allora ecco l'oro se dovesse chiudere dico la verità sotto a questo clasterino qua credo che una parte di posizione la chiuderei perché potrebbe iniziare a stornare quindi farei un take profit parziale sì disallocherei una parte di capitale in oro e sì perché la botta che ha dato oggi è bella forte è un bel sell off cioè sicuramente è una posizione andata benone perché l'avevo aperta qua una parte di posizione ovviamente in investimento la tengo però addirittura c'è un possibile setup short in arrivo però no è interessante ma cioè è un dump bello marcato quindi credo che ciò chiuderei sicuramente una parte della posizione nel gold dunque 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 allora vi volevo dire questa cosa qua allora domani che è mercoledì parte finalmente token sets in beta cosa vuol dire? vuol dire che vabbè sarà già pubblico in realtà ma non ho ancora non l'ho ancora spammato dappertutto quello lo farò più avanti perché all'inizio ve l'ho detto chi è interessato lo aiuto magari a utilizzare la piattaforma che cos'è token sets? è una piattaforma di social trading quindi ve la faccio anche vedere poi farò un video tutorial dedicato ovviamente dove si può andare a prendere una parte di questi set quindi comprare effettivamente i set che sono dei fondi decentralizzati perché è tutto su smart contract non è né sulla piattaforma né in tasca di chi crea il set chiunque può creare il suo set e andare a basarlo su una strategia nel mio caso sarebbe quella delle pendenze delle medie mobili che tutti voi ormai conoscete perché ve l'ho pubblicata anche sul cioè in un video vi ho mostrato com'è costruita è una variante che mette insieme due time frame che opera in un certo modo a basso rischio è vista come a basso rischio e chiunque insomma potrà mettersi in pilota automatico acquistando questo set che altro non è che un token IRC20 la cui performance mima quella del set perché c'è sotto il collaterale che ribilancio io in base ai segnali della strategia sarà tra bitcoin e USDC che è quello di compound quindi quando è in stablecoin fa farming della rendita passiva di compound quando invece è esposto su bitcoin segue bitcoin ed è una strategia ovviamente trend follower da domani questo lancia quindi io in realtà avevo anche creato una landing page che poi metterò online insomma dove spiego un po' come funziona farò un video tutorial dove brevemente spiego appunto come funziona e poi chi è interessato magari lo facciamo insieme è semplicissimo è come comprare un token IRC20 che cioè si può comprare banalmente cioè adesso ne prendo uno di un altro con metamask ci si collega si fa bio sell e in sostanza utilizzando ether piuttosto che altre coin si altri token IRC20 si compra questo set che poi segue la sua performance quindi in base al ribilanciamento vedete prendendo come esempio questo è stato esposto sempre 100% chain link da qua ha ribilanciato in quant'è? 10% no sì circa il 10% si DAI ok? ed è la stessa cosa che vorrei fare io ma con i CUSDC perché mi piace un po' di più di DAI e con Bitcoin ovviamente non c'è il link quindi io ribilancerò in base ai segnali della strategia poi quando uno vuole uscire fa sell banalmente e via ciao buonanotte e nel frattempo è come avere investito una sorta di parte di capitale su questa stessa strategia da domani ci sarà anche il mio set comparirà anche il mio set vediamo come andrà domani stesso nei prossimi giorni vi spiegherò tutto poi su Telegram su Discord sui canali appositi metterò online la landing page le scorse volte ho detto una cosa errata ovvero che le fees di ETH che sono abbastanza alte al momento per acquistare o vendere il set vengono rimborsate da token sets in realtà ho scoperto che non è vero viene rimborsato solo le operazioni di rebalance per evitare che il set perda di valore a causa delle fees quindi in sostanza voi una volta che entrate quando si entra nel set il rebalance poi lo faccio io ovviamente e è come rimanere dentro la strategia senza pagare nemmeno le fees di trading proprio perché quelle vengono rimborsate completamente le fees di acquisto o vendita tuttavia ho deciso di rimborsarle io personalmente a chi è interessato a entrare in questo set magari in questa fase beta quindi poi domani vi spiego tutte le modalità vi racconto un po' tutte le varie cose vi basti sapere che è una cosa DeFi quindi non state dando soldi in mano a me non gestisco nessun tipo di capitale la piattaforma token set non gestisce il vostro capitale è su smart contract in stile DeFi per capirci quindi c'è il pool di collaterale e il token è esattamente fa parte di questo set è una quota di questo set e basta tutto lì quindi domani usciranno le info sono gasatissimo io per sta roba non vedo l'ora adesso potrei andare avanti a parlarne per due ore ma non ho assolutamente intenzione di farlo perché lo faremo poi in un video in un contenuto dedicato e basta l'ultima cosa qualcuno mi aveva chiesto riguardo al a come sta andando il mio viaggio col Forex mi è venuto in mente adesso perché abbiamo parlato prima di oro in realtà dal punto di vista operativo una ciofeca clamorosa perché ho preso praticamente solo stop loss però ho imparato un po' di cose quindi quasi quasi vorrei fare un video adesso ho timore a farlo perché non vorrei che poi qualcuno pensi che parlo di Forex diventa un canale di Forex però ho imparato alcune cose alcuni setup alcune situazioni quindi magari fare un piccolo video dove dico cosa ho imparato in questo mese di Forex perché no che avevo usato il nostro caro PrimeXBT che adesso è da un po' che non ha proposizioni Forex anche perché in realtà poi visto che le fees non sono tanto alte neanche per le crypto insomma erano dello 0,05% sui market order senza il funding l'importante ovviamente è stare nell'intraday perché sennò paghi l'overnight è una cosa che non vuoi assolutamente fare ci avevo fatto qualche trade speculativo l'ho detto lo uso per il Forex poi è andata a finire che ci ho fatto qualche trade speculativo anche su Bitcoin e Ethereum perché volevo provare a giocare con l'intraday anche lì comunque no mi sono trovato bene al di là di questo eh sì vedete 0,05% mi ricordavo bene e l'importante è non finire in overnight vabbè comunque non voglio non voglio andare off topic ragazzi che dire domani mi raccomando vi voglio tutti sul pezzo per parlare di token sets per il resto occhi puntati su Bitcoin su come chiude la candela oggi in particolare sulla reazione che avrà su questo livello e vediamo un po' che fare basta poi ci aggiorniamo sui nostri canali consueti per adesso vi faccio un carissimo saluto e a domani sul pezzissimo mi raccomando ciao a tutti